Il 16 novembre sarà celebrata la giornata mondiale sul tumore del pancreas. È una patologia estremamente importante, è una patologia che fa paura, ma è una patologia per la quale possiamo fare molto. I progressi della medicina in questo settore, sia nel trattamento della malattia localizzata che nella malattia metastatica, sono stati importanti negli ultimi anni, ma è importante anche combattere alcuni atteggiamenti sbagliati. L'obesità e il fumo di sigaretta sono tra questi. Si tratta di piccoli atti che dobbiamo mettere in essere se veramente vogliamo fare dei progressi più consistenti nel combattere questa malattia. Il 16 novembre, con il supporto dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica e con il supporto delle associazioni dei pazienti, cercheremo di fare il punto su questa malattia, ma soprattutto per dare un messaggio alla popolazione. Si può fare molto, possiamo combattere, possiamo ottenere dei risultati positivi, cominciando però da piccoli gesti della nostra vita quotidiana, come il combattere l'obesità e il fumo di sigaretta.